Che cosa dobbiamo dire noi ai nostri concittadini? Dobbiamo dire che l'Italia è da 30 anni una democrazia coloniale e che noi ne abbiamo le prove con facili argomenti. La democrazia coloniale è una democrazia che nemmeno discute, nemmeno dibatte, non si accorge dei temi, non si accorge dei problemi. Quindi non è che noi abbiamo discusso e abbiamo poi fatto delle scelte che ovviamente noi qui in questa piazza critichiamo. No, non c'è stato nessun dibattito dentro i singoli partiti, in Parlamento, nei governi, dei quotidiani nazionali. Secondo me, con questo tema, noi possiamo far entrare in Parlamento delle persone che solleveranno i dibattiti. Però sia chiaro, se abbiamo dormito 30 anni, questo è un problema che se saremo bravi lo risolveremo in 30 anni. Non serve gente impaziente, non serve gente che pensa ai propri interessi. Questo è un progetto storico e questo è il compito al quale siamo chiamati. Grazie.